Ciao a tutti, queste slide mi sono state molto utili per superare l'esame per agente immobiliare, soprattutto per la parte orale. Spero siano utili anche a voi e, se le volete in formato cartaceo o in formato di testo, ho creato un libricino che trovate su Amazon e vi lascio il link in un commento. In questo video parliamo del mutuo. Allora, il mutuo è un contratto con cui una parte consegna a un'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra parte si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità. L'altra parte acquista la proprietà della cosa con il mutuo e questo è molto importante. Nel caso di un mutuo su una casa, ad esempio, il mutuatario acquista la proprietà della casa anche se, ovviamente, deve restituire i soldi a chi dire prestati. La natura giuridica del mutuo. Allora è un contratto reale, cioè si perfeziona con la consegna della cosa, nel caso, ad esempio, di un mutuo immobiliare con la consegna del denaro. È traslativo, come abbiamo già detto, trasferisce la proprietà. È un contratto a effetti obbligatori, cioè il mutuatario si obbliga alla restituzione di quanto ricevuto ed è a causa variabile, cioè può essere oneroso, quindi prevede il pagamento di interessi, oppure gratuito, senza interessi. La forma del contratto di mutuo è libera. Se si tratta di mutuo oneroso, quindi abbiamo visto con interessi, il termine per la restituzione è stipulato a favore di entrambe le parti. Cosa vuol dire? Vuol dire che il debitore non può estinguere il mutuo prima della scadenza, ma allo stesso tempo il creditore non può chiedere la restituzione anticipata della somma. Questo per il mutuo oneroso, mentre nel mutuo gratuito, quindi senza interessi, il termine è a favore del mutuatario. Quindi il mutuatario, cioè il debitore può estinguere il mutuo prima della scadenza, ma il creditore non può comunque chiedere la restituzione anticipata. Se gli interessi sono al di sopra del tasso legale, devono essere pattuiti per iscritto. Se invece gli interessi sono usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Se il mutuatario non paga gli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione per in adempimento, oppure chiedere la restituzione dei soli interessi e quindi decidere di mantenere in vita il contratto di mutuo. Anche il mancato pagamento di una sola rata del mutuo legittima il mutuante a chiedere la restituzione anticipata dell'intero. Nel caso di mutuo su cose diverse dal denaro, se la restituzione diviene impossibile per cause non imputabili al mutuatario, questo è comunque obbligato alla restituzione di un corrispettivo in denaro, ovviamente per il valore della cosa mutuata. Parliamo del contratto preliminare di mutuo in cui una parte si obbliga a prestare un futuro consenso a consegnare la cosa oggetto della promessa, che può essere appunto il classico mutuo in denaro o cose diverse dal denaro. La promessa però, e questo è importante, non è vincolante nel senso che può non essere mantenuta dal promittente se vi sono stati dei cambiamenti nella situazione patrimoniale del promissario, ad esempio, che ne so, è stato licenziato oppure ha avuto una perdita importante nel suo patrimonio azionario in borsa, quindi ci sono stati dei cambiamenti, questi cambiamenti in negativo, tali da mettere in dubbio la sua capacità di restituzione del mutuo stesso. Concludiamo con il mutuo di scopo, che è un finanziamento destinato agli imprenditori e presuppone l'esistenza di un vincolo in merito all'impiego delle somme erogate. Molto semplice. Bene, questo è tutto, spero che questi video vi siano utili, vi faccio un grande in bocca al lupo per l'esame. Alla prossima!